Bentornati su MyFootballGersey. Oggi vediamo la quarta maglia del Barcellona per la stagione 22-23 in edizione player, la maglia pensata per i calciatori. Il Barcellona FC ha svelato da poco la nuova quarta maglia per la stagione in corso, rendendo omaggio alla radice del club con la bandiera catalana Seniera ben visibile sul petto. La nuova quarta maglia del Barcellona 22-23 è stata presentata con lo slogan più Catalunia più Barça. Trasmette lo spirito del Barça e l'orgoglio di essere di Barcellona e della Catalogna. La squadra di basket indosserà anche il nuovo quarto kit 2022-23. La quarta maglia Nike Barcellona 22-23 combina i colori della Seniera giallo e rosso. con il blu. Lo stema del Barcellona e il logo Spotify sono posizionati al centro, mentre uno swoosh si trova su una manica. Veramente bellissima! Questa maglia nella mia classifica prende 5 stelder. Con questo giallo così intenso che sembra un arancione è veramente una maglia che vi consiglio. Il costo lo vedete qui sopra, non voglio aggiungere altro perché tanto parla da solo, un costo molto basso per una maglia fatta benissimo con dei buoni tempi di consegna. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate sul sito a vedere questa e altre bellissime offerte che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.